Perchè è importante diagnosticare la malattia il più rapidamente possibile? È importante diagnosticare perché circa il 75-80% dei pazienti possono essere operati, è un intervento di endoarterettomia polmonare per cui il chirurgo in pratica estrae uno stampo del circolo polmonare in cui sono attaccate questo materiale fibroso che ostruisce le arterie. Può essere un intervento risolutivo perché nei pazienti in cui è possibile si può avere la normalizzazione della pressione del circolo polmonare. Quindi il paziente ritorna praticamente come prima anche se poi dovrà fare una terapia anticoagulante a vita. Questo endotelio che viene tolto poi dopo come fa il paziente ad andare avanti senza l'endotelio? Questo non è un problema perché nel giro di alcune settimane si può riformare l'endotelio che ricopre la superficie interna del vaso. Il rischio che c'è è un rischio soprattutto legato a un'edema da riperfusione che può essere presente nelle prime 24 ore dall'intervento. L'intervento di solito viene fatto in centri ad alta specializzazione e qui in Italia siamo fortunati perché abbiamo il centro di Pavia del professor Darmini che è un centro ad alto volume tra i migliori centri in Europa e nel mondo. Quindi comunque rimane un intervento complesso, non può essere fatto così da una chirurgia polmonare normale? Assolutamente, è un intervento che richiede una curva d'apprendimento abbastanza lunga per cui va fatta in centri che siano esperti in questo tipo di chirurgia. E dopo l'intervento chirurgico la prologia di questi malati qual è? È ottima, diciamo che quasi tutti i malati finiscono per avere una normalizzazione della pressione per cui poi la mortalità è legata ad alte patologie intercorrenti.